ciao a tutti siccome io abito a torino ea torino ogni anno a maggio c'è il salone del libro volevo invitare le persone che desiderano comunque magari conoscermi presso appunto il salone del libro il 12 maggio prossimo alle 17 presso lo stand t57 denominato spazio ovale perché sarò lì a presentare l'ultimo mio libro quello di nettuno e simbolismo di nettuno e ovviamente lo farò per spazio interiore quindi se chi desidera venire io comunque parlerò parlerò di nettuno e sarò lieta comunque di incontrare le persone che vorranno venire sia per farmi delle domande sia per conoscermi sia magari per per filmare qualche libro ricordatevi che la fiera del libro è all'ingotto e quindi sarà una domenica domenica pomeriggio e quindi sarò lieta comunque di potervi accogliere vi saluto e vi aspetto numerosi ciao 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 ciao